giornata inglese a tratti amazzonica direi, tanto stiamo dentro oggi siamo nello studio di Fabio Tumini, per raccontare la sua storia occorrerebbe la tre cani ma forse non basterebbe anche quella, ci vorrebbero anche i 44 gatti avrete modo di conoscerlo, per quel che basta facciamo un po' di ascolti, un po' di cos'è, riprese ieri e poi procediamo il primo brano è stato fatto ma la risposta migliore bomba atomica ragazzi, inammite per le vostre bombe alcune volte i finali si svoltano anche in maniera casuale basta spostare da qui a qui esatto, basta spostare ragazzi, in realtà basta spostare ciao a tutti questo è proprio Paul McCartney il modo migliore per iniziare la seduta di registrazione caffè semplice, amaro è un fantastico studio qui è dove c'è l'amplificatore microfonato noi siamo andati all'altra parte è un pinto l'ultimo brano partiti con un giorno di pioggia quasi invernale abbiamo finito con una fantastica giornata di sole bella esperienza al satellite studio se avete bisogno e necessità di registrare qualcosa di lasciare un ricordo musicale dedicare una canzone a vostra moglie o alla bambina che sta per nascere andate da noi alla prossima qualunque stessi ciao 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 ciao